La situazione è monitorata sabato mattina e poi due parole sulla partita, la squadra, il polso, la settimana. La situazione stanno tutti abbastanza bene nella partita e cercando di essere il più razionario e oggettivi possibili affrontiamo la seconda in classifica che ha cinque punti più di noi e che il girone di ritorno ha fatto meglio di noi che siamo stati una squadra che ha fatto bene, quindi è una parere di grande difficoltà, al di là dei nomi e delle etichette che io non guardo e non mi interessano. Noi stiamo facendo un percorso dal 15 novembre a questa parte secondo me è buono, è un altro ostacolo di quelli duri da superare che ci permette anche di vedere il nostro grado di a che punto siamo, poi dopo il percorso terminerà il 6 maggio, però domani è uno scoglio secondo me è duro perché la realtà dice così. Guardando la sostanza qual è? Secondo lei non è il risultato che si aspetta perché è una domanda che è abbastanza stupida, però è un derby, quindi una partita che paradossalmente viene letta così in pareggio potrebbero servire tutti e due in ottica primo posto, potrebbe servire il Savone in ottica playoff e all'Albisola pure. Questi sono un po' i tre ragionamenti. Ma secondo me mi aspetto una partita spezzettata combattuta, ha deciso da un episodio, agonisticamente di alto livello, magari a riscapito di qualche giocata perché quando ci sono i derby c'è sempre quel surplus di agonismo, di tensione che la fa da padrone però puoi dirti se, secondo me è una partita che va giocata e puoi vedere cosa di cercare. Dal punto di vista tattico, come te l'aspetti l'Albisola? Perché ha cambiato più volte pelle durante la stagione e Savone ha questo 4-2-3-1 invece l'ha mantenuto per gran parte del giro di ritorno. Mi aspetto con una difesa sicuramente a 3 che diventeranno a 5 e mi aspetto che verranno qua per aspettarci, ripartire e cercare qualcosa sui piazzati dove sono molto forti. Mi aspetto che cercheranno di farci giocare. Una squadra accorta, una squadra da trasferta, una squadra che viene qua prima a non prenderle e poi dopo quando può cercare di dare il colpo. Ragionendo per le parti si può dire che il lago della bilancia in attacco resta sempre l'impiego di gommess come quando utilizzarlo, con che criterio, come sta soprattutto? Questo è più un discorso più che calcistico del dottore, nel senso che Alberto ha recuperato un po', non partirà sicuramente all'inizio e ce l'avremo per 10, 15, 20 minuti. Questo lo valutiamo perché purtroppo non sta benissimo, insomma Gareggio non è stato impiegato perché la partita consentiva di risparmiarlo. Ha fatto qualcosa stasettimana, però non partirà dall'inizio e cerchiamo di dosarlo per il più minutaggio possibile. Ha già intensa la formazione anche dopo la rifinitura, magari stasera? Ma no, può ballare qualcosa, ma i 10 undicesimi sono quelli, è inutile stare qua a fare i film. Siamo questi, per fortuna, dico io, perché stiamo facendo un grandissimo lavoro. La cosa importante è che ci sia lo spirito Savona, poi dopo il resto lo andremo ad analizzare, a sviscerare sul campo. C'era già una foto dei play-off perché adesso diventano veramente, è molto bella la situazione. Mi prendo il Viareggio, poi si tappano i punti con loro, poi c'è la forte quercetta, insomma c'è una bella lotta. È bella ma è parziale. Io la classifica la guarderò il 6 maggio alle 17 qualcosa. Dopodiché vedrò se avrò la fortuna di rimanere ancora un po' qua a lavorare o se andremo tutti in vacanza. Fino al 6 maggio io cerco solo di fare più punti possibile, partita per partita.